Per capirci, arrivo subito da Miozzo, tanto per capirci, stiamo parlando di un momento in cui l'Italia aveva 80.600 positivi più o meno, c'erano 8.165 morti, la zona peggiore in quei giorni era Bergamo, tanti, tantissimi contagiati, il momento è quello, tanto per cristallizzare la situazione, e arriva questa delegazione e c'era Miozzo. E ad un certo punto, quello che noi non sapevamo, è che i militari russi chiedono l'accesso agli uffici pubblici italiani per sanificarli. È andata così Miozzo? E quanto l'ha stupita che avessero chiesto di entrare agli uffici pubblici? Beh, è andata sostanzialmente così, è andata con un generale Kikot che è arrivato, che con molta... ...polpito più di tanto, nel senso che era un generale, è un generale, veniva con ordini superiori ai massimi livelli, così si presentò nella discussione che facciamo nella sede in cui li abbiamo ricevuti. E i massimi livelli, presumibilmente, li riferivano o al ministro della difesa Shoigu, o al presidente Putin, probabilmente allo stesso Putin. Quindi immaginare che tu hai davanti a te un generale che viene con gli ordini di Putin, capisci bene che quegli ordini devono essere eseguiti. Un po' ruvido, non esattamente un tono colloquiale. Diciamo un po' ruvido, però, insomma, non è che ha trovato gente che si è schierata a tappeto, si è messa a tappeto. Abbiamo semplicemente dialogato con lui e abbiamo ribadito quelle che erano le necessità del governo italiano nell'area in cui chiedevamo al contingente russo di andare a lavorare. Le nostre necessità erano le RSA, le strutture sanitarie e eventualmente le strade, perché all'epoca, vi ricordate, le immagini dalla Cina ci facevano vedere come i cinesi bonificavano gli ambienti. Sanificavano tutto, mi ricordo le immagini che arrivavano in Italia e che noi trasmettevamo. Quindi voi rispondete, a noi serve che voi entriate nell'RSA, negli ospedali, al massimo nelle strade, per sanificare. E loro insistono? E' stata una riunione che è durata parecchio, parecchio. Con il generale Portolano abbiamo ascoltato attentamente, abbiamo continuato a ribadire quelle che erano le nostre necessità e da parte di Chicot c'era questa rigidità nell'eseguire gli ordini superiori. Che erano quali? Sanificare tutti gli uffici pubblici? Qual era l'ordine che loro riferivano? Di sanificare. Tutto? Quindi di avere, in qualche modo di avere carta libera, ecco. Cioè di entrare dove volevano quindi. Io in effetti ho poi fatto un'associazione di pensiero dicendo, mi sembrava che avessero in mente una situazione anala a quella di Chernobyl, per cui l'inquinamento era universale, e per cui loro dovevano andare dove era necessario andare. Quindi noi li avremmo mandati in Lombardia e loro avrebbero potuto spaziare dove ritenessero necessario. I nostri limiti, diciamo, limiti ambientali, probabilmente non erano compatibili con quelle che erano le istruzioni che avevano ricevuto. L'hanno ricevuto. Però siccome noi abbiamo esistito. Claudio, voglio sentire una prima impressione, no? Cosa ti viene in mente? Perché secondo te...